Voi che stanno scaldando, dove? Devo scaldare il prego Alessandro, piglio che non colgo la cosa Si ma ripiglie solo quello che fa che non cambia Ma ma si vedi, ti porto sempre di posto Si, allora Lu, Lu Tocco Tocco, c'è sì Sì, 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 per il sito Sì, sì, per il sito Rossi, dai Vai Nini State fermi che vi riprendo uno per uno Dai Marcello, sistemati State fermi Vai Sì, la panza Sì, la panza Avvogalo Grazie. 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 Grazie.